Nell'ultimo impegno della girone d'andata Paternò e Gelbison arrivano al confronto reduci da una sconfitta di misura. Entrambe scendono in campo vogliose di riprendere e a fare punti. Il trainer dei siciliani recupera De Marco che funge da terminale nella 4-2-3-1 mentre il collega della Gelbison conferma il collaudato 3-5-2 con l'inserimento fin dall'inizio dell'ex Cireale Sparacello al fianco di Gagliardi. I padroni di casa partono decisi e già al terzo minuto l'estremo difensore dei cilentani d'Agostino è chiamato al suo primo intervento per dire no a un velenoso diagonale di De Marco. Ma a rompere l'equilibrio è la rete della Gelbison quando all'undicesimo minuto Gagliardi direttamente dal corner beffa l'estremo difensore Cavalli. Al diciottesimo De Foglio si propone sul versante destro dove mette in mezzo per la corrente Sparacello che non trova la sfera. I padroni di casa provano a riorganizzarsi e al ventiquattresimo minuto ci prova la piana con una giocata acrobatica ma non trova il bersaglio. Invece la Gelbison fa da prima le prove generali del raddoppio con il capitano Ugliano che dà un calcio da fermo e impegna severamente il portiere di casa il quale dopo 120 secondi è costretto a capitolare per la seconda volta. Gagliardi si rende protagonista di un'azione personale che conclude con un tiro che finisce nell'angolo basso e sigla lo 0 a 2 e la sua doppietta. Nella ripresa il paternò prova a ritornare in partita e si fa vedere con più insistenza nella metà campo della Gelbison che con grande maestria riesce a controllare le azioni dei siciliani i quali non riescono seriamente ad impensierire per almeno 20 secondi l'estremo d'Agostino. Intorno alla mezz'ora al termine di una rapida ripartenza la Gelbison colpisce. E ancora Gagliardi a risultare letale per il paternò firmando la tripletta che gli consente di portarsi il pallone a casa. Il paternò non ci sta e alla 34esimo minuto con Savasta trova la rete che accorcia le distanze per il definitivo 1 a 3. Poi non succede più nulla nonostante i cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara. La Gelbison accentra un'importante vittoria e si porta al terzo posto e domenica è attesa dal derby con i cugini di Santa Maria Cilento. Per il paternò invece arriva la terza sconfitta consecutiva e la classifica resta inchiodata a 18 punti con due lunghezze di vantaggio sulla zona play-out ma la squadra di Catalano deve recuperare due partite.